Ho una fame berva però ci ha detto di aspettare un altro pochetto, allora facciamo un roller coaster. Grazie a tutti. Grazie. No, no, il tipo lo fa sta, è che ho addirizzato la urba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti 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 Vorato Frank foriede Ora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti